weee non fare la banana flambeee da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia oggi sarà una grande giornata per quello che riguarda fortnite sì perché alle 10 arriverà la patch 8.20 e ci sarà un downtime dei server ragazzi questo vuol dire che gli aggiornamenti saranno davvero super interessanti e anche belli corposi probabilmente arriveranno anche tutte le nuove skin che vedremo nei prossimi giorni nel video di oggi ragazzi infatti parleremo anche del bundle della ps plus lo avete visto tutti è uscito ieri lo guarderemo in maniera un pochettino più dettagliata ma molto attenzione anche ai nuovi suoni di respawn sì perché sono stati inseriti ufficialmente da pochissime ore i nuovi suoni che andremo a sentire più o meno insieme ragazzi e poi il ritorno se abbiamo tempo non voglio neanche bruciarvi quello che sta per tornare su fortnite però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere questo canale grazie di cuore per le vostre scioppazzate taggatemi su instagram in modo che posso ringraziarvi appena ho due secondi e quindi ovviamente ripubblicarvi però ragazzi la domandina la devo fare la devo fare non posso non fare la domandina tattica ed è una domanda molto personale a che livello sei del pass battaglia dai a che livello sei ditemi un po io sono appena arrivato al livello 67 quindi ho sbloccato da poco la versione nera di quell'animale lì che è tipo una volpe ditemi qual è ragazzi il vostro livello del pass battaglia qua sotto nei commenti non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ovviamente di attivare la campanella per non perdere nessuna news e nessun video ma quindi ciao alle bande e bando alle ciance andiamo subito a vederlo ragazzi eccolo qua il carbon pack ps plus totalmente gratuito per i possessori della ps del ps plus potete tranquillamente riscattarlo nello store della vostra playstation vi ricordo però se qualcuno di voi non avesse il plus che è possibile richiedere la prova gratuita di 14 giorni quindi ragazzi eventualmente potete utilizzare un metodo di pagamento per poi rimuoverlo subito non vi vengono addebitati assolutamente soldi non vi preoccupate voi potete riscattare i 14 giorni di prova gratuita e ovviamente prendere la nuova skin che potete tranquillamente utilizzare nel battle royale non mi fa impazzire se devo essere sincero ma è una cosa mia a me non piacciono molto le skin un po particolari però una skin è sempre una skin perché non bisogna ottenerla ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro argomento super super interessante sto parlando ovviamente del camion quello che è sparso un po in giro per la mappa ce n'è uno se non ricordo male una volta era dietro al quartiere adesso non so bene dove sia finito il camion è un po che non gli sto dietro se devo essere sincero ma ragazzi sappiamo che molto probabilmente arriverà la possibilità di ottenere il respawn e la cosa un po strana è che non sappiamo se arriverà nel battle royale in singolo o semplicemente arriverà in squad però come vi anticipavo sono stati recuperati dei suoni e li voglio far sentire li censuriamo leggermente li censuriamo leggermente sono nel battle royale così così non si accorgono che li censuriamo sono tutti suoni molto molto particolari ragazzi inerenti al nuovo camion questo è proprio quello che state sentendo il suono di respawn del nostro giocatore o forse del giocatore della nostra squadra come vi anticipavo non sappiamo assolutamente quando e come verrà inserita questa nuova funzione di respawn quindi ovviamente rimaniamo tutti in attesa di scoprirne di più anche se oramai i suoni li abbiamo sentiti ma andiamo avanti ragazzi e parliamo le heli news ragazzi lo sapete non posso non tenervi aggiornati su tutto quello che succede anche in game e quindi è il caso di vedere l'ottava posizione dell'elicottero ragazzi guardate che giro che sta facendo praticamente è facile pensare che la posizione numero 9 sarà tra montagnole maledette e crocevia del ciarpame e la domanda che ci facciamo è quando poi l'elicottero finirà il giro che cosa succederà in questo momento ragazzi è arrivato proprio sopra la montagna dei vichinghi eccolo qua lo vediamo si vede benissimo ragazzi tra l'altro vi da un sacco di metallo se lo tirate giù una roba come tipo 117 di metallo quindi se incappate nell'elicottero visto che in questi giorni è in una posizione molto accessibile non dimenticatevi di tirarlo giù ragazzi che vi fate un terzo del metallo facile 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 ma andiamo avanti ragazzi è un'altra notizia incredibile ci arriva dagli amici del giappone ragazzi l'avete già riconosciuta sicuramente è già quella ragazzi è la skin iconic ma la cosa davvero incredibile è che un video di un ragazzo giapponese fa vedere come ci sia uno stile per e porca miseria non è questo uno stile personalizzato per la skin in questione ve la voglio far vedere ragazzi eccolo qua ed è veramente molto molto carino devo dire che con questo stile a me la skin piace più che con lo stile normale molto più bella bianca di nera e voi cosa ne pensate vi piace questo stile della skin iconic a me sinceramente si piace parecchio non ho purtroppo la skin in questione e mi piacerebbe un botto averla però ragazzi come al solito quelli che giocano dal giappone siccome se non ve lo ricordate loro hanno un pochettino di problemi per quanto riguarda lo shop nel senso non possono shoppare in game perché hanno delle e delle legislature abbastanza forti e quindi gli danno un botto di promozioni ma anche proprio scaricando delle applicazioni oppure partecipando a dei mini eventi online insomma ragazzi ne hanno sempre un po più di noi ma ci sta noi possiamo shoppare e loro no ma andiamo avanti ragazzi questa non ve l'aspettavate raga questa non ve la aspettavate lo riconoscete e qua parlo con i vecchi raga qua inizio davvero a parlare con i vecchi parliamo se non ricordo male della season 4 se non ricordo male o 5 4 5 insomma è stata ritrovata da pochissime ore questa immagine nelle cartelle di fortnite relative alle modalità a tempo limitato e per chi non lo conoscesse questo ragazzi è il guanto di thanos chi non avesse mai giocato la modalità thanos beh permettetemi di dirvi che si è perso davvero una delle modalità più divertenti in assoluto del nostro tanto amato fortnite andate a vedere qualche spezzone su youtube se li trovate sicuramente li troverete dei gameplay della modalità thanos e sembrerebbe e ovviamente tutti ci auguriamo che possa veramente tornare insomma è tornata la modalità fuga è lecito pensare che possa essere reinserita la modalità guanto dell'infinito questo era il nome ufficiale un guanto viene sparaflesciato prepotentemente in mappa tipo meteorite parte la calca di gente che ci si butta sopra il primo che lo prende si trasforma in thanos e diventa allucinante ragazzi è divertentissima veramente meravigliosa mi auguro che la rimettano seriamente beh ragazzi per oggi le news sono finite ma vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina instagram ottenerla controllata dopo le 10 di questa mattina perché se ci fossero dei leak ve li pubblicherò in anteprima su instagram e poi ovviamente ci faremo il video domani io vi ringrazio per avermi guardato vi mando un abbraccio grande un bacione noi ci vediamo in live oggi alle 13 ciao 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 ciao